Ben trovati, nuovo appuntamento con Primo Piano, vi presento l'ospite di oggi è Maurizio Tollini, dottore commercialista, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Che settimana è stata? La sua è una domanda veramente attenta, complessa, delicata. Che settimana è stata per un commercialista? Beh, devo dire una settimana nefasta perché siamo usciti appena dieci giorni fa da un periodo di calcolo degli acconti d'imposta che scadevano il 30 di novembre con la data effettiva primo dicembre e cento festivo. Guardi, è un periodo che francamente ci ha visto sì impegnati ma soprattutto ci ha visto preoccupati, più del solito, perché abbiamo raccolto una continua, lenta, diciamo così, rivisitazione di quello che è il carico fiscale che tutti i contribuenti sono tenuti a pagare perché le finanze, la disponibilità di quello che è la liquidità concreta si è ridotta sempre di più. Questo, devo dire, lo vedo con una certa preoccupazione perché, essendo per carattere un ottimista, ma vedere clienti che sono storici del nostro studio, che trovano grande difficoltà a versare tutto quello che hanno sempre regolarmente pagato, parliamo di contribuenti corretti, di contribuenti molto attenti e, devo dire, per fortuna nostra città è la stragrande maggioranza. Vedere questi soggetti che hanno una sofferenza finanziaria non indifferente non dovuta a uno sperpero di denaro ma dovuta a un calo fisiologico di quello che per loro è la vendita, parliamo di attività commerciali, parliamo di attività di servizi, parliamo del bar, parliamo di anche attività che sicuramente quasi sono il termometro del nostro vivere sociale. Però, ribadisco da ottimista, dico sempre ai miei clienti, che qualcosa dovrà pur cambiare e aspettiamo che questa crisi e questa globalizzazione che ci ha investito come uno tsunami prima o poi possa trovare una collocazione che vada alle spalle e non davanti al nostro operato. In tutto questo purtroppo siamo facendo i conti con una settimana che è andata ma con un'altra che sta per arrivare alla conclusione che ci ha visti impegnati in dover richiamare i contribuenti a degli altri adempimenti perché purtroppo piace ricordare che il 16 di dicembre, quindi parliamo di una scadenza che è ormai prossima, IMU e Tasi irromperanno nelle case dei nostri concittadini per il pagamento a saldo. Non mi soffermo su quella che da pochi giorni è stata concretizzata come pagamento a saldo, e mi riferisco alla Tari perché i nostri concittadini hanno ricevuto una missiva da parte dell'ente comunale che ha determinato il saldo dovuto a cui sono stati detratti gli acconti che i cittadini avevano già pagato durante il periodo pregresso. Anche lì c'è stata qualche lamentela, alcuni contribuenti sono venuti in studio cercando un po' un supporto, un aiuto, è giusto il calcolo, guardi avevo pagato, non avevo pagato, io ho semplicemente ribadito che l'eventuale conteggio andava riscontrato con il comune e quindi li ho invitati a poter verificare la posizione. Devo dire che ho avuto riscontri positivi perché i cittadini, magari sì qualcuno mi ha detto ho dovuto attendere una lunga fila, però hanno trovato dall'altra parte grande disponibilità, grande preparazione e io ringrazio a titolo personale coloro i quali come front office da parte del comune sono costretti, devo dire, a ricevere questa grande ondata. Purtroppo devo dare anche, l'accennavo proprio in un diverso momento, devo dare anche un'altra brutta notizia in termini sempre di tributi. L'accenno ai terreni che vedono la nostra bella città che dal 1992 è stata considerata dalla normativa nazionale terreno montano, ahimè non lo sarà più perché la norma attuativa dell'ultima legge presentata dal governo Renzi alla ricerca dei famigerati 350 milioni di euro che servivano a coprire il costo degli 80 euro in busta paga ad alcune fasce di lavoratori hanno imposto per ragioni di finanza a dire i comuni d'Italia, più di 6 mila i comuni montani non lo saranno più montani tutti coloro i quali si trovano con un'altitudine sul livello del mare da 281 sino a 600 metri. Ahimè, il punto di riferimento che la normativa e la circolare agenzia precisa è la casa comunale, abbiamo fatto una verifica nel sito del ministero e la casa comunale, il nostro bel comune si trova sotto i 600 metri per poche decine di metri, sempre che siano 578 metri. Allora cosa devo dire ai miei concittadini? Attenzione, tutti coloro i quali non erano più stati chiamati dal commercialista per i terreni, attivatevi, contattate il professionista perché anche se misurazioni modeste, parliamo di terreni che non siano estensioni, non siano poderi, dovranno essere assoggettate all'Imu e il versamento se intanto che non ci saranno altre comunicazioni diverse da parte del legislatore è stato previsto non per il 16 dicembre, ribadisco, io ho ricevuto telefonate in studio, dottore dobbiamo pagare l'Imu sui terreni? No, non state attenti, il governo ha preso l'impegno di far scivolare questa scadenza ad oggi sembrerebbe al 26 di gennaio. Dico pure ai concittadini che invece possiedono terreni ma sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che certamente per loro rimane sempre quella che è la considerazione di non imponibilità del terreno e quindi certamente nulla sarà dovuto da parte di questi soggetti. Tasi, Tari, Imu, tante sigle, spesso i cittadini rimangono confusi. Sì, lei dice bene, i cittadini con il rischio di confondersi un po' e allora forse sarebbe il caso e mi permetta di esternarlo in maniera spero più semplice possibile tranquillizzare perché tutte queste sigle, tutti questi acronimi hanno generato solo un po' di confusione. Allora, cosa accade nel 2014? Il legislatore ha previsto che sulla prima casa non si doveva più pagare l'Imo. Allora, bene, l'iniziativa lodevole ma nel momento in cui hanno cercato di far quadrare i famosi conti si sono accorti che la coperta era un po' piccolina, diciamo così. Hanno tirato fuori un nuovo acronimo, IUC, Imposta Unica Comunale, che all'interno prevedeva la nascita della nuova imposta che si chiama Tasi. Allora, qual è lo scenario del 2014? La vecchia Imu la conosciamo e le regole sono sempre le stesse. L'impianto normativo non è stato modificato. Io ho una prima casa, non pago l'Imu. Ho una seconda casa, pagherò l'Imu, con le aliquote deliberate dal comune di Caltanissetta. Sempre nel 2014, abbiamo detto, si è affiancato a questo nuovo tributo, Tasi, che, diciamo così, ha dovuto trovare anche una giustificazione. Come è stato detto al cittadino, dovrai pagare per i servizi indivisibili che il comune ti eroga. Ne cito uno, l'illuminazione pubblica. Ma in realtà, dobbiamo essere estremamente pratici nel dire che servivano a coprire quel vuoto creato dal LIMU non pagata sull'abitazione principale. Quindi, il cittadino che ha l'abitazione principale non ha pagato l'Imu, dovrà pagare la Tasi. Il cittadino che ha un'abitazione principale e anche una seconda casa, pagherà sulla seconda casa, sia l'Imu che la Tasi. Quindi, ecco che l'essere stati chiamati più di una volta dal commercialista, dal professionista, al versamento del tributo, non è stato un voler, diciamo così, disturbare il contribuente più volte, ma rispetto ad un impianto normativo. Quindi, facciamo date, il 16 di giugno è scaduta la prima rata dell'Imu sulle case che non era un'abitazione principale. Il 16 di ottobre il contribuente ha dovuto versare la prima rata della Tasi sulla prima casa e sulle altre abitazioni. Il 16 di dicembre abbiamo i saldi, non quelli che, bellissimo poterla attuare, applicano le attività commerciali, ma in termine tecnico il saldo inteso come differenza che è dovuta in base ai versamenti di acconto. Quindi, riepilogando, il 16 di dicembre avremo il cittadino che ha versato l'Imu il 16 di giugno, il 16 di dicembre verserà il saldo, poi ha versato il 16 ottobre l'acconto Tasi, il 16 di dicembre verserà il saldo della relativa parte del tributo. Quindi, in realtà, anche se con un unico modello F24, leggendo bene i codici tributo, ci accorgeremo che il 16 di dicembre verseremo l'esatto importo come sommatoria tra quello che ho versato il 16 giugno e il 16 di ottobre, perché di saldo si tratta. In termini di tasse comunali sono previsti cambiamenti dal primo gennaio? Sì, sì, in effetti qui il legislatore ha recepito le fortissime lamentele che sono arrivate, non solo dai cittadini, perché io sono, guardi, fortemente spostato dall'aria dei cittadini, per due ragioni, me lo lasci dire, non concepisco, non comprendo, perché un onesto cittadino che per anni, per decenni, con sacrifici, con rinunce, perché no, evitando magari di entrare in ferie, è riuscito a costruire o a comprare l'appartamento, perché per noi la prima casa è un bene, un bene che ha una priorità assoluta, bene, questo cittadino della nostra bella Italia debba essere vessato, debba essere colpito con facilità da un legislatore, mi perdoni, che trova nell'immobile, nel mattone, come qualcuno a Roma la definisce, la facile base imponibile per far scattare delle imposizioni tributarie che vanno sì all'ente locale, però si è ben chiaro, io non voglio puntare il dito contro l'ente locale perché non mi compete, l'ente locale ha ragione, lo Stato, Roma, riversa meno risorse e impone col federalismo al Comune di prendere soldi dal cittadino, quasi come per dire è colpa del Comune, non è colpa di Roma, no, la colpa è centralizzata e quindi il mattone viene ancora oggi aggredito. Cosa accadrà nel 2015? Guardi, le voci che circolano in Commissione Finanza e la Camera danno per estinto la Tasi, i Moetasi spariranno, ma con questo non voglio dire che sparirà la tassazione sul mattone perché il nostro bravissimo legislatore nel fare i conti ha previsto, con un nuovo identificativo, ad oggi è stato coniato un nuovo termine come local tax, abbiamo necessità di usare sempre l'inglese per forse convondere il cittadino e non far capire di che cosa si tratta. La local tax vedrà cosa? Al proprio interno tutto ciò che è dall'addizionale comunale, dicevo dall'Imu, dalla Tasi e altri tributi, con una determinazione precisa, con un range di aliquote preciso che consentirà ai Comuni di deliberare, in virtù delle esigenze finanziarie, e con, questo è un aspetto positivo, la ricomparsa di una detrazione fissa. Perché questo lo cito? Desidero che passi un messaggio importante. Perché la detrazione fissa sull'immobile consentirà di nuovo, così come nel vecchio impianto dell'Imu, ai cittadini che hanno abitazioni di modeste valore, ma soprattutto di rentità catastale, di non pagare questo nuovo tributo. Quindi, diciamo, il tutto è in una fase ancora embrionale, è in una fase di studio, anche l'Anci, quello che è la rappresentanza dei Comuni d'Italia, sta chiedendo al legislatore margini di manovra, perché i bilanci comunali sicuramente sono il vero problema dell'ente locale. Attenderemo che la legge di stabilità possa licenziare questo nuovo provvedimento, però io lo vedo in termini positivi solo per una ragione. Potremmo dire ai nostri clienti, ai nostri cittadini, guarda, l'imposizione sulla casa dal 1 gennaio al 31 dicembre è pari ad Euro X, e non con dei balzelli che vedono, diciamo così, un'evoluzione dell'imposizione in periodi diversi e non sono assolutamente preventivati. Quindi, come quello che dicevamo, per i terreni del nostro territorio. Siamo giunti al termine, che settimana si aspetta? Beh, una settimana sicuramente che ci porta pian piano al Santo Natale. Io sono un credente, sicuramente è un periodo particolarmente bello. Cerchiamo di viverlo nel modo migliore. Mi rendo conto, parlando alla cittadinanza nissena, che non in tutte le famiglie c'è una certa serenità, perché, ahimè, qualcuno magari ha perso il posto di lavoro, ci sono famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie veramente notevoli. Quindi, sicuramente, il mio pieno sostegno a tutti questi soggetti che si trovano in difficoltà finanziarie. Uno sguardo positivo al futuro? Sì, dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo perché la mia generazione no, ma i nostri figli hanno il dovere di avere, spero, un futuro migliore. Ecco, io sono un padre, ho due splendidi ragazzi, uno di 20 e una di 16, studiano entrambi. Forse saranno costretti a non rimanere nella nostra splendida città, questo non lo so. Io auspico sempre che possano in qualche modo trovare una collocazione lavorativa. Il tutto è molto difficile, però, da ottimista dico a tutti quanti, cerchiamo a testa bassa di, ahimè, stringere i denti il più possibile e nelle situazioni particolari cerchiamo, ove è possibile, di fare quadrato. Non cerchiamo a tutti i costi, diciamo, una responsabilità oggettiva di chi nella nostra città, e certamente io ringrazio sempre il sindaco per tutto ciò che cerca di fare, non è detto che sia lui il responsabile di tutto ciò, perché tutto ciò arriva dall'alto. Arriva dall'alto con una crisi finanziaria internazionale e paesi dove sicuramente la situazione non è rosa, così come la nostra. Quindi a tutti faccio per la prossima settimana gli auguri di buon Natale, sinceri, affettuosi, sperando che il 2015 possa riservarci qualcosa di positivo, di riprendere un po' il sorriso che avevamo quando per strada ci si incontrava. Grazie a Maurizio Tollini, dottore commercialista, per essere stato con noi e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Buon proseguimento. Grazie e buonasera a tutti.